Nessuno poteva immaginarsi che il rintocco di una campana potesse portare così tanta gioia all'interno di un reparto ospedaliero. Adesso questa campana ce l'ha anche l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Dopo che Maria Nave d'Oro, paziente oncologica, arrivata alla sua ultima seduta di chemioterapia, ha voluto donare al nosocomio una Victory Bell, la cui usanza vuole che venga suonata quando si conclude un percorso di cure. Da i media e da lì che ho appreso appunto di questa usanza americana che adesso è divenuta molto importante anche da noi. Importante è un parolone perché importanti sono le cure, le cure che ci offrono insomma in questa struttura, in questo istituto. La donna, 50enne originaria di Gravina, scoprì di avere un tumore al seno durante una visita di routine, un fulmine al ciel sereno che la costretta, dopo l'intervento, ad intraprendere un ciclo chemioterapico che si è concluso oggi, quando ha suonato la Victory Bell, da lei acquistata. L'idea nacque durante la malattia, quando una sua compagna venne dimessa. Adesso si potrà suonare la campana, segnando la fine di una battaglia e regalando speranza a chiunque stesse ancora combattendo contro un cancro. Voglio in particolar modo dedicare il primo rintocco della campana a una ragazza che non c'è più. Lei è venuta a mancare in questi ultimi tempi. Molto bella e piena, con una forza d'animo spettacolare. È un messaggio di augurio, di positività che in questo istituto deve anche diffondersi e serpeggiare tra i pazienti.